Pronto al controcross, si avvicina Di Bala, quadrato, vuole andare nel dribbling, ecco Di Bala, si gira, provo al tiro, rete, rete, Di Bala colpisce subito, Di Bala Musk, Juventus Stadio impazzito, Juventus in vantaggio. Io ancora non ci credo, io devo ancora realizzare, realizzerò il ritorno ma devo ancora realizzare, io non ci posso credere, io non ci posso credere, non posso credere a quello che ho visto. Stanotte è stata un'impresa a dormire perché l'adrenalina a 2000, non a 1000, a 2000, tremavo, tremavo ragazzi, tremavo, sudavo più di quelli che hanno giocato, pareva che avevo giocato anch'io, però adesso io posso dire una cosa, e andiamo, e andiamo, e vai, e andiamo, grandi ragazzi, 3-0 e tutti a casa. Una partita così non se la sarebbe aspettata nessuno, nessuno. E abbiamo visto un Di Bala allucinante, un Di Bala allucinante, e io voglio che quelli del Barcellona, tifosi, giocatori, sto Di Bala se lo sognano le notti, le notti intere. Cioè fanno gli incubi, io spero che sia così, e probabilmente sarà così, ma è questa, è questa la differenza della Juventus di quest'anno e la Juventus della finale del 2015. Che ha, stanno, quel giocatore che può fare la differenza da solo. Ha fatto due gol, adesso a prescindere da Ter Stegen è tutto, il secondo poteva fare un po' di più, ma ha fatto due gol. Uno più bello di quell'altro. Questa sera, 11 aprile, oltre che giornata con più fega di scoppiato in Italia, sarà la giornata ricordata come incoronazione di Di Bala, re dello Juventus Stadium. Questa è stata la partita di Allegri, quindi complimenti alla squadra, ma soprattutto complimenti a Massimiliano Allegri, perché ha fatto una partita, gli ha fatto fare questa Juve spettacolare, una Juve d'applausi. Quindi, primi minuti, la cosa che volevo succedesse, la Juventus, dato che il Barcellona è abituato a dominare, non se l'aspetta, pressing alto, così che la difesa e il Barcellona vada in tilt, così che questa squadra, abbiamo visto in diverse situazioni, che non se l'aspetta, va in tilt. Hanno coperto benissimo, ovviamente non potevano fare il pressing alto per tutta la partita, se no sarebbe finita diversamente, i giocatori si sarebbero stancati subito, quindi partita gestita da Allegri in modo perfetto. La Juventus ha confermato quindi di essere una squadrona, una squadrona perché singolarmente e come squadra c'è. Abbiamo visto i due, Chedira e Pjanic, che mi sono piaciuti tantissimo, che hanno contribuito loro a rifar partire la Juventus. Ogni volta che dopo i due gol ripartiva la Juventus era grazie a Pjanic e a Chedira. E se dico ripartire non vuol dire che questa è stata una Juventus catenacciara, anzi, tutt'altro. Una Juventus che fa due gol al Barcellona in quel modo, con un pressing molto alto, è tutto tranne che catenacciara. Però si parla delle ripartenze, dato che il Barcellona dopo il 2-0 ovviamente ci provava, e se la Juve faceva tutto quell'atteggiamento per tutta la partita ovviamente non ne usciva viva. Il palleggio dei due è stato perfetto, il tedesco è sempre quella, oltre che essere una roccia, è sempre quella sicurezza, che tu gli dai palla e lui sa sempre dove mandarla. Pjanic riesce a controllare anche i palloni più difficili, riesce a giocare di prima, riesce a essere ancora protagonista in attacco. Mi sono piaciuti da matti i centrocampisti, che io fino a poco tempo fa, pochi mesi fa, perché apparentemente dalle prestazioni sembrava un centrocampo inesistente, adesso il centrocampo è quello che domina il gioco e sono contentissimo. Alexandro continua a essere un treno e per non allungare il video non dico altro, perché la partita l'avete vista, che cavolo di partita ha fatto, non si stanca mai, non perde un duello. Dani Alves è stato fondamentale perché prima di tutto sapeva le debolezze del Barcellona, quando c'era da fare fallo per non far partire i fenomeni lì davanti, lo faceva, è stato un grande, è stato un grande anche perché ogni volta che la Juventus in difesa, diciamo, quando bloccava il Barcellona, anche il Barcellona ha prestato alto, la Juventus riusciva sempre a uscire bene con un gioco di prima intesa anche tra Pjanic e Dani Alves, mi è piaciuto tantissimo, difesa invalicabile, ho visto Suarez che ha tentato di fare tunnel, diciamo, verso la fine del campo a Bonucci, ma, cocco mio, in Italia è un'altra cosa la difesa e come ha detto Piccinini, il Barcellona si sta rendendo conto che sta facendo la partita contro la difesa più forte del mondo e questo non solo io lo dico, ma lo dice anche un grande esperto di calcio come Piccinini. Quindi complimentoni alla difesa, complimentoni a Buffon che non si sa quanto santo è, non si sa quante volte ci ha salvato, so infinite le volte, non si possono contare, quel tiro di Niesta, più che uno sbaglio di Niesta, è stato un miracolo di San Gigi, perché Gigi non si è buttato per terra, Gigi è rimasto in piedi e ha deviato quella palla in calcio d'angolo e mi è piaciuta da matti la reazione della curva, come un gol, perché Buffon è fondamentale e io penso che la Juve, quando Buffon andrà in pensione, Buffon non ci sarà più, la Juve sarà finita. Più passa il tempo e più Mandjukic in quella posizione è lì, mi ricrede, mi piace, perché Mandjukic sta facendo un lavoro assurdo che molta gente non riesce a vederlo, anche perché è difficile vederlo, ma tutti i palloni che sono arrivati a Alexandro e che Alexandro ha superato col fisico e velocità l'altro terzino, l'altro centrocampista, insomma l'altro che stava dalla parte sua, sono stati grazie a Mandjukic, che col fisico difendeva il pallone e aspettava la sovrapposizione di Alexandro, infermabili tutti e due. Quadrato senza che diciamo stronzate robe varie, ha fatto l'assist che ha fatto partire la vittoria dell'1-0, di bala non ci sono parole, non c'è niente da aggiungere, grazie a Higuain, perché molti ha criticato Higuain, anche se ha sbagliato due gol che... però ragazzi ce sta, dopo che ci ha fatto vincere partite da solo nel campionato, ce sta a sbagliarli, si perdona, è a voglia, poi a uno come Higuain si perdona tutto, però non è questione di perdonare, perché grazie a Higuain che si è spostato, perché Luis Enrico aveva visto che Higuain è fondamentale per la Juventus, che segna sempre lui, ci ha messo tre persone su Higuain. Se ci fate caso, il secondo gol di bala è da solo, perché Higuain porta via gli uomini, gli lascia spazio libero e di bala la mette dentro, quindi mossa tattica di sacrificio per Higuain, complimenti a quest'uomo, anche se molti non hanno ancora capito che è fondamentale per la Juventus. Io però ho una grande paura del ritorno, una grande paura che questo ritorno ci possa devastare. 3-0 è tantissimo, è tantissimo. E uno può dire, ma guarda che il Paris Saint Germain, guarda di lì, guarda di là. Allora, prima di tutto il Paris Saint Germain, con tutto il rispetto, non siamo noi. E abbiamo una società, un allenatore che ti stacca le palle, perché Massimiliano Allegri, io sono convinto che in questo ritorno non gli dirà di difendere, perché se la Juventus il ritorno difende e basta, è ufficialmente fuori. È ufficialmente fuori. Infatti, mi è piaciuto le interviste, insomma, di Premium, di Sky, che uno giornalista gli ha fatto una domanda e lui ha risposto semplicemente dovremo attaccare, dovremo fare gol. Faremo gol perché se tu al ritorno fai almeno uno, uno è un gol, un gol, non dico che il turno è passato, ma se ci stai con la capoccia e se non pensi solo a difende, il turno lo passi benissimo. Solo che, dillo a parole, è tanto facile, perché il Barcellona, ragazzi, è il Barcellona. Non scordiamocelo. È una squadra che può far cambiare da un momento all'altro. È una squadra pericolosissima e io devo dire la verità, io adesso, io c'ho tanta paura. Non mi voglio illudere di passare il turno perché secondo me sarà durissima. 3-0 non è poco, però noi dobbiamo starci con la testa, con la grinta e con la consapevolezza di fare contro una squadra che ha vinto Champions, dopo Champions e negli ultimi anni. E questa squadra è Barcellona. Io, in conclusione, dico questo. Stasera, come avevo detto in precedenza, sono queste le gare che fanno vedere campioni, dove vengono fuori i campioni. Stasera ho visto un campione, Paolo Di Bala. La settimana prossima, mercoledì, il 19 aprile, ne vorrò vedere un altro. Gonzalo Gerardo Eguain. Quindi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like se vi è piaciuto appunto. Un ringraziamento va anche ai nostri grandissimi ragazzi. Grazie ragazzi. Fino alla fine. Forza Juventus. Ci vediamo sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti.